Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Ben ritornati nelle mie pagelle, le pagelle di Luca Toselli. E voi direte, ma che cos'è questo nuovo layout? Beh ragazzi, voglio ringraziare Daniele che è un ragazzo come voi che mi segue e che durante questa pausa nazionale ha ben deciso di farmi un bel regalo, ha deciso di utilizzare i suoi mezzi dal punto di vista grafico per creare un nuovo layout per il format delle pagelle. Meravigliose, secondo me, veramente bellissime. Quindi grazie mille Daniele per questo bel pensiero, questo bel regalo che ci accompagnerà durante questa stagione bianconera. Lascio il link Instagram dell'account di Daniele qui sotto in descrizione, che se qualcuno avesse mai aver bisogno di qualche lavoretto grafico, ecco che Daniele è disposto e vi fa vedere anche con questo portfoglio cos'è in grado di fare. Partiamo subito dalla Tiago Motta, che per me si porta a casa un 6, il classico 6, perché ripeto, a me non è piaciuta la Juventus contro la Lazio. È stata, secondo me, la partita peggiore della stagione. E ho visto che tanti non sono stati d'accordo con me. Nel video post partita io ho detto più volte questa cosa e non siete stati d'accordo. Mi avete detto no, per me Napoli è stato peggio, no, per me Roma è stato peggio, no, per me Empoli è stato peggio. E va benissimo tutto. Però c'è un piccolo dettaglio che sfugge. E cioè che la Juventus con la Lazio, non dico per tutta la partita, ma per gran parte della partita, tutto il secondo tempo e metà del primo, ha giocato con un uomo in più. E questo è, per forza di cose, un dato, un valore da inserire all'interno dell'analisi. Perché un conto è giocare 11 contro 11, un conto è giocare 11 contro 10. Non mi è piaciuta la Juve. Non mi sta piacendo la gestione di Ildis da parte di Tiago Motta, che lì, torno a dire, per me è completamente sprecato. Se non abbiamo la possibilità di sfruttarlo al meglio in quella posizione, non sta rendendo. È un giocatore abbastanza isolato, che non riesce a dare il meglio di sé. Mi è piaciuto nei cambi, perché alcuni cambi andavano fatti, assolutamente, forse anche qualche minuto prima. E mi è piaciuto come è riuscito comunque, con pazienza, a cercare di tenere la Juve sempre alta, perché la Juventus è vero che ha creato solo quattro grosse palle gol con un uomo in più per 70 e rotti minuti. Però la Juventus è sempre stata proiettata nella metà campo della Lazio con pazienza, con palleggio, seguendo quelli che sono i dettami di Tiago Motta. Quindi la squadra Tiago Motta in mano ce l'ha, questa cosa è evidente e lo abbiamo visto all'interno di questa partita. Tutte queste cose insieme portano, secondo me, Tiago Motta a guadagnarsi un 6 in pagella. 6 che non si becca di Gregorio, perché la Lazio non ha praticamente mai impegnato il nostro estremo difensore, che si becca quindi senza voto. 5 e mezzo, Savona ha un po' faticato, ha un po' ballato. E dato che abbiamo parlato anche di arbitro, e l'abbiamo fatto nel video che ho caricato questa mattina, vi invito a andarvelo a vedere, trovate il link qui sopra. Nelle schede, Savona è stato ammonito per un fallo che probabilmente nemmeno c'era, è ovvio che se li decidi di fischiare il fallo, il cartellino giallo lo dai, però il dubbio sul fatto che ci fosse o meno quel cartellino giallo rimane. Savona che poi viene sostituito in maniera intelligente, la Tiago Motta che fa una mossa molto inzaghiana, va a toglierlo Catelli e Savona che sono i due ammoniti per inserire forze fresche, quindi UEA e Fagioli. Sembrava un cambio fatto apposta a seconda di quelli che erano gli ammoniti in campo, però Savona ha un po' faticato nella partita di ieri sera. Gatti votò 6, ha fatto la sua solita partita di alto livello, la Lazio non è stata mai pericolosa, il Tati non è mai stato un problema, è anche vero che dopo l'esplosione dei Romagnoli, Dià, che era l'altro giocatore offensivo della Lazio che andava ad Armanforte alla punta di riferimento, è stato sostituito e quindi Kalulu e Gatti si sono ritrovati praticamente da soli, loro due, contro un unico attaccante. Ma è proprio Kalulu che ha cambiato la partita, è stato proprio lui, perché Vlaovic è da un pallone meraviglioso, ma Kalulu che cosa fa? Intanto che cosa ci fa lì? Per quale motivo si è spinto così là? È sembrata una calafiorata? E questo deriva tutto da una libertà e un allenamento e di una lettura e anche di una sorta di promozione che Tiago Motta deve aver dato a Kalulu, una lettura nelle capacità di Kalulu, perché anche con Illipsia l'abbiamo visto andare in giro per il campo e fare queste scorribande. Quindi complimenti a Tiago Motta e a Kalulu perché stanno lavorando molto bene a questo punto di vista, fa una sgasata importantissima e poi va proprio dentro il campo ed è proprio quella cosa che permette alla Juventus di giocare tutta la partita al secondo tempo, da quel momento in poi in superiorità numerica, perché Kalulu ha fatto una gran giocata e l'ha letta pure bene. Quindi veramente complimenti Pier che, teoria, professione, difensore centrale, però io l'ho visto in giro in tutto il campo per tutta la partita e insieme a Cabal per me è il migliore in campo. Cabal ha fatto una crescita incredibile, non lo vedevamo da tempo perché era dalla partita con la Roma, mi pare che non vedeva il campo e non mi aveva entusiasmato tantissimo nelle prime uscite stagionali. Sì, mi è sembrato un buon difensore Como, Hellas, Roma, non mi era dispiaciuto, cioè in generale mi era piaciuto, però lo vedevo un po' titubante sui passaggi. Ecco, ha sgrezzato tantissimo questa cosa. Nella partita ieri sera con la Lazio ha fatto molto bene a questo punto di vista e soprattutto è stato sempre molto attento in difesa e molto, molto propositivo in fase di spinta, tant'è che non è una coincidenza che il gol dell'1-0 della Juventus nasca proprio da una sua sgroppata e da un suo cross con aggancio di dietro che becca per fortuna nostra spinta ovviamente male la gamba di Ghila ed è proprio il difensore che va a farsi autogol. Però Cabal era lì, è Cabal che ha dato quella palla, è Cabal che per tutta la partita si è fatto trovare pronto, attento in tutto il campo, sia in difesa che in attacco. Tanta roba Juan Cabal. Bel giocatore ripescato un po' dalla nazalina in questa situazione di emergenza, chissà che non lo potremo vedere con più continuità in futuro. Manolo Catelli, voto 6. Era la serata delle sventagliate per il Loca, però sulla manovra siamo ancora molto lenti. Uno dei problemi principali della Juve in questo momento è avere una manovra particolarmente lenta e qui per forza di cose bisogna interpellare sia i difensori che fanno parte l'azione da dietro ma soprattutto i centrocampisti e Locatelli in questo momento è un giocatore che non ha la velocità di esecuzione di Niccolò Fagioli, ma ci arriveremo. Turam, voto 6, pimpante, bello, allegro in giro per il campo, un po' a destra, un po' a sinistra, due o tre cross anche interessanti proprio per Turam che si buttava dentro, poi sostituito. Però non una brutta prestazione di Turam, nemmeno di altissimo livello, non mi è dispiaciuto in questa posizione. Mi dà sempre l'impressione però che si scarichi un po' troppo velocemente. Non so se è una cosa solo mia o se in questo momento non ha ancora il 100% i 90 minuti nelle gambe. Douglas Lewis, voto 5 e qui iniziamo un po' le insufficienze perché fino al blocco difensivo, siccome siamo andati bene, più in alto non abbiamo fatto una gran partita con i giocatori che devono buttarsi negli ultimi metri. Douglas paga sicuramente quelle due o tre robe di cui abbiamo discusso all'interno del video inerente al VAR e quindi veramente di quei cali di lucidità che non hanno senso e che lo portano a fare determinate cose. E poi ovviamente purtroppo quel gol sbagliato. Perché quel gol sbagliato è un gol importante. È vero che non era facilissimo perché lui non è un gigante, però c'è arrivato anche tutto scordinato, non ha nemmeno beccato lo specchio della porta. E poi prima parlavamo di velocità di esecuzione, no? Lui tecnicamente è un giocatore importante che dovrebbe cercare di dare quella velocità di esecuzione. Invece l'azione è una rallenta. Non lo vedo ancora perfettamente inserito nei meccanismi di Tiago Motta. E oggi non mi sembra un giocatore in grado di fare la differenza in questa Juve. Come oggi non mi sembra in grado di fare la differenza neanche Turam e se c'è Fagioli probabilmente nemmeno Locatelli. Quindi l'idea è che se ci sono e stanno bene tutti e tre il centrocampo titolare sia Fagioli, Vertice Basso, McKennie e Cobb Mainers come giocatori che vanno ad occupare le posizioni di trequartista, mezzali eccetera eccetera. C'è da lavorare su questi giocatori. Perché da Douglas Lewis io devo per forza di cosa aspettarmi di più. Perché è un giocatore che ha uno status importante, è stato pagato tanto, ci sono tante aspettative su di lui e non può essere questo. Perché secondo me può fare decisamente di più. E noi lo aspetteremo. Perché secondo me le qualità e le capacità le ha. Deve mettere un po' a posto forse un po' di caos che ha dentro la testa. Andrea Cambiaso voto sei il capitano di questa sera. Non mi è piaciuto tantissimo però poi ci sono quelle due o tre giocate di Cambiaso che ti fanno dire ok Andrea c'è. Faccio un esempio. Quel cross per Gatti dove Gatti butta sopra la traversa perché va a colpire per difendere anche se sta attaccando. Ma quella giocata è di alto livello e poi non butta mai via il pallone. fase di copertura anche nel finale preziosissimo. Quindi poi alla fine la prestazione di Cambiaso la senti che è una prestazione pesante. Ma non ancora ai suoi livelli. Perché io so che Cambiaso glielo ho visto fare anche in questa stagione e anche l'anno scorso può fare anche ancora tanto, tanto, tanto di più. Però c'è sempre. Lui, Andrea Cambiaso, c'è sempre dentro le partite della Juve. In ogni partita della Juventus c'è un po' di Andrea Cambiaso. E questo è un dato di fatto. Kenanildiz voto 5. Secondo me insieme a Douglas Lewis il peggiore in campo. Ma lo dicevo anche prima in apertura. Credo che il più grande limite di Tiago Motta in questo momento sia legato alla posizione di Kenanildiz. So che questa può essere un un popular opinion o può essere comunque una lettura molto forte. Ma per me davvero la colpa più grande che ha Tiago Motta oggi è non avere ancora letto, ho capito, la perfezione e la posizione di Kenanildiz. Poi potete dirmi quello che volete, perché ci sta avere una marea di giustificazioni del tipo sì ma allora chi fai giocare e non abbia la rosa lunga e gli infortunati. Avete completamente ragione. 100%. Però vi dico che lì il DIS se gli chiediamo sempre solo di stare largo, che poi non è neanche largo, è un intermezzo un po' largo, un po' stringe, un po' prendi, un po' vai e poi dribbla eccetera eccetera, lì da solo non ce la fa. Ma perché? Perché non è accompagnato. Mi sembra veramente un pesce fuor d'acqua che deve giocare in un ruolo che per caratteristiche non è suo. E' un po' la lettura che ha fatto Tiago Motta in conferenza stampa per Azic. Secondo me è la stessa identica cosa. Dusavlaovic 5,5. Se mi avesse fatto quel gol lì, perché la palla che dà a Calulo è meravigliosa e quindi facciamo una via di mezzo. Al 6 non ci arrivi. Poi ha fatto una partita difficile. Lì davanti la palla è arrivata troppo poco. Non abbiamo avuto così tante palle gol da fornire a Dusavlaovic. Però per me non è da 6. è una prestazione di poco inferiore alla sufficienza. Timothy Weha, voto 6. È entrato bello pimpante però contro Tavares ha fatto un po' fatica. Tra l'altro bel trattore. Tavares ha messo in difficoltà sia Savona che Weha poi. Tornato dall'infortunio quindi speriamo di avere una freccia in più nel nostro arco. Ne abbiamo bisogno aspettando anche. Nico Gonzalez poi con 6 sao sta tornando quindi molto bene così. Nico Fagioli, voto 6 e mezzo. Ha dovuto prendere un cartellino giallo per forza di cose perché Zaccagni stava scappando via quindi se l'è giocato molto bene. Però Fagioli dà il tuo al pallone. Fagioli aumenta i giri del motor di questa Juventus. Aumenta la qualità del palleggio della Juve. E questo secondo me è stato importantissimo in questo secondo tempo per cercare di ribaltare appunto quelli che erano dei ritmi molto blandi. Astic la stessa cosa. È stato pimpante. È entrato molto bene secondo me. È un giocatore che ha esordito ieri con la maglia della Juve ma ha dato dimostrazione di voler spaccare il mondo e quindi se gli ingressi sono di questo tipo e con questa qualità e con questa voglia di fare bene non posso fare altro che dire benvenuto nella nostra grande famiglia bianconera in attesa di un'occasione anche un po' più corposa dal punto di vista del minutaggio. E anche Danilo quando è entrato secondo me ha fatto molto bene. Ha gestito molto bene la palla. Ha giocato di prima. Ha giocato sul lungo. Ha giocato sul corto. Ha giocato davvero leader. Ha giocato da capitano. Ha giocato la giocatoria che voleva andare in campo, segnare e prendersi questa vittoria e portarsela a casa. Di caricarsela sulle spalle per far vedere che c'è ancora spazio nella Juve per questo Danilo che a quanto pare sta cercando di rimuovere la clausola inerente al rinnovo automatico in caso di 50% di presenza e per avere più spazio appunto con la maglia della Juventus di Tiago Motta. E questi signori erano i miei voti e le mie riflessioni per questo Juventus Lazio 1-0. Povero di gol. Tante discussioni che abbiamo fatto dentro e fuori dal campo ma ora la palla passa a voi, tocca a voi. Vi aspetto qui sotto nella sezione commenti. Ovviamente non prima di aver lasciato un mi piace e un'iscrizione a questo canale. Non posso fare altro che augurarvi una buona domenica e noi ci vediamo lunedì e sarà già giorno di prepartita e andremo ad analizzare la conferenza stampa di Tiago Motta prima della UEFA Champions League. Ciao!